Area di servizio della Bisana, vedete che il traffico è stato tirato da due mezzi dell'ANAS qui nell'area di servizio, guardate perché c'è un mega fermo di polizia che sta effettuando i controlli ci sono una decina di macchine e tantissimi agenti che appunto via via che passano le macchine alcune vengono fermate e controllate per capire dove stanno andando e cosa stanno facendo ottimo